Questa unità didattica presenta un primo esempio di pianificatore, cosiddetto pianificatore in avanti, implementato in prologue. La nostra trattazione di questo argomento della pianificazione segue un approccio molto pragmatico, invece che discutere in generale quelle che sono le caratteristiche della pianificazione vista come processo inferenziale, seguiamo semplicemente, forse in maniera didattica, non lo so, proprio la cronologia degli eventi, cioè come l'idea di pianificazione è apparsa all'interno dell'inticenza artificiale. Quindi partendo dal 1971 con Stripes, che è stato un po' il capostipide dei pianificatori, il quale ha proposto una metodologia di modifica delle teorie che rappresentavano il mondo, che poi dopo è stata utilizzata per molto tempo e comunque conserva ovviamente una validità oggettiva. Stripes era un pianificatore nato e sviluppato da Nielson presso la Stanford Research Institute per ad alto livello gestire le azioni di questo robot Shaky. Esiste un filmato interessante, scaricabile dal sito dell'istituto e anche da YouTube, molto carino, che fa vedere appunto come si muoveva questo robot e come funzionava Stripes. e anche, fa vedere anche altre, se nelle immagini si vedono altre cose di cui parleremo in seguito. Dicevo che Stripes ha proposto in quegli anni un metodo molto semplice per sintetizzare i piani d'azione, proponendo un concetto, il concetto di operatore, che era la controparte, diciamo così sintattica, che è il concetto di azione. Ad un'azione che il robot era in grado di compiere, nel mondo corrispondeva, dal punto di vista sintattico, un operatore, cioè un operatore di modifica di teorie che descrivono il mondo. Adesso sarà tutto chiaro, fra un attimo, spero. Cioè, in pratica, Stripes rappresenta il problema della pianificazione come appunto una modifica di descrizioni del stato del mondo espresse in first order logic, quindi in pratica lo stato del mondo appunto è espresso come una teoria del primordine, cioè come un insieme di assiomi che descrivono lo stato del mondo, e questa è la novità, di operatori che modificano le descrizioni del stato del mondo, quindi modificano le teorie e possono essere applicati solo se valgono alcune precondizioni nel stato del mondo. Cioè, una certa azione può essere applicata o no? Beh, questo dipende se certe precondizioni, cioè formula che devono essere... certe precondizioni delle azioni sono vere nel mondo, e quindi le precondizioni vengono le stesse modellate, come vedremo, come formula che devono essere vere nel mondo, cioè nella teoria che descrive lo stato corrente del mondo, perché l'azione possa essere compiuta, cioè quindi che l'operatore possa essere applicato a modificare, per modificare, la descrizione del stato del mondo, perché come l'azione modifica uno stato del mondo da uno stato A a uno stato B, così l'operatore modificherà la teoria A che descrive lo stato del mondo A, e nella teoria B che descrive lo stato del mondo B. Ovviamente quindi l'operatore, la semantica dell'operatore è legata all'azione, cioè come l'azione modifica col mondo, il mondo, così l'operatore dovrà modificare le teorie. Quindi dobbiamo definire innanzitutto un linguaggio per rappresentare il mondo, un linguaggio del primo ordine, il più semplice possibile, però che sia sufficientemente dettagliato per rappresentare tutto ciò che del mondo il pianificatore deve avere in qualche maniera conoscenze e capacità di rappresentazione. I operatori che appunto consentono di rappresentare le azioni, questo è ovvio, ma che consentono di controllare facilmente che le precondizioni sono vere, modificare agevolmente la descrizione del stato del mondo ed eventualmente controllare se lo stato del mondo prodotto dall'azione è uno stato del mondo in cui l'obiettivo viene raggiunto. Stripes propose come metodo di modifica della descrizione del stato del mondo un semplice metodo che era basato sull'aggiunta e cancellazione di formule. Illustriamo direttamente il concetto rifacendoci all'esempio che abbiamo usato nell'introduzione alla pianificazione, cioè all'esempio delle scimmie banane. Abbiamo cioè la possibilità, la necessità di dover rappresentare un mondo in cui esiste un solo agente che è in grado di agire nel mondo e quindi dobbiamo dare un nome a questa gente, sarà la nostra scimmia un oggetto su cui la scimmia può salire per prendere delle banane che sono appese ad un gancio sul soffitto, chiamiamo questo oggetto box, le banane e il pavimento. E poi supponiamo che la stanza dove si trova la scimmia sia divisibile in un certo numero di luoghi di posizioni diverse, chiamiamole mattonelle, per semplicità ovviamente supponiamo che questi luoghi all'interno di una stanza siano solo tre, mattonella A, mattonella B, mattonella C. E poi abbiamo bisogno di convenientemente descrivere delle relazioni fra questi oggetti e le relazioni che sono significative per questo semplicissimo pianificatore che stiamo per implementare sono un predicato per esprimere il concetto di essere in un luogo quindi questo predicato lo chiamiamo at, con due argomenti, soggetto e luogo l'essere sopra un supporto, questo lo chiamiamo on e lo stare appeso a un gancio, per esempio sul soffitto con lo status dove abbiamo due argomenti, il soggetto che viene appeso al soffitto ed eventualmente appunto lo status che potrebbe essere hanging o grabbed grabbed vuol dire prese se hanging lo status vuol dire che l'oggetto è chiaramente l'oggetto in questione saranno le banane sono appeso al soffitto grabbed vuol dire che vorrebbe dire che l'oggetto in questo caso appunto le banane è nelle mani della scimmia per esempio at manche A vuol dire che la scimmia è nella posizione A at manche in floor vuol dire che è il pavimento status bananas hanging come abbiamo detto vuol dire che le banane sono sul soffitto un linguaggio di descrizione del mondo che Stripes introdusse non sentiva ovviamente le variabili per esempio a cosa può essere utile una variabile una variabile può essere utile per esempio per dire che le banane e la scala si trovano sulla stessa verticale sulla verticale della medesima mattonella questo potremmo sicuramente dirlo scrivendo in serie prologue at box x and at bananas x quindi in pratica per ad esempio descrivere lo stato iniziale in cui la banana si trova la banana si trova la banana si trova appesa al soffitto sulla verticale della mattonella C mentre invece la scala si trova sul pavimento nella mattonella B e la scimmia si trova sul pavimento nella mattonella A potremmo semplicemente descrivere questo stato del mondo iniziale appunto con questa serie di predicati on marking floor, on box floor, at mani A at box B, at bananas C and status bananas Hanging noi vorremmo raggiungere lo stato del mondo in cui tutto sommato indipendentemente da su quale mattonella stiamo se A o B o C però l'importante è che la scimmia abbia in mano le banane e quindi potremmo sostanzialmente descrivere questo stato obiettivo in questa maniera e cioè sì esattamente quello che vediamo qui è una descrizione ovviamente completa rispetto a quelle che che sono le capacità descrittive di linguaggio assai semplici che abbiamo scelto esprime un po' tutto ciò che è vero in questo mondo in particolare però l'unica cosa che realmente ci interessa che sia vera è che le banane siano prese dalla scimmia quindi tutto sommato la conclusione di questo percorso potrebbe essere anche che magari la scimmia stava sul pavimento e non sulla scatola oppure che scimmia e scatola stessero sulla mattonella A anziché sulla mattonella C però ovviamente questo non sarebbe stato necessariamente sarebbe stato importante, rilevante ciò che era veramente rilevante per concludere il processo di pianificazione cioè l'obiettivo era consentire alla scimmia di prendere le banane allora questo è quello che abbiamo visto è un semplice linguaggio di descrizione del mondo che può essere usato da un pianificatore molto semplice e abbiamo anche visto l'uso di questo linguaggio per descrivere due possibili stati del mondo uno stato iniziale e uno stato obiettivo invece gli operatori, questo invece è il concetto importante sono sostanzialmente descritti da una tripla di liste di fatti la tripla è consiglia dalle precondizioni dalla hedge list e dalla gelich list pragmaticamente possiamo anche introdurre un quarto elemento che è il nome proprio dell'operatore adesso vediamo a che cosa serve ad esempio supponiamo di modellare il nostro robot avendo una capacità di movimento, di spostamento e quindi potremmo sostanzialmente rappresentare l'azione chiamarla Go ed essere questa qui un'azione che ha tre elementi fondamentali la gente, cioè chi compie l'azione il luogo da dove la gente si diparte e il luogo dove arriva e poi questa azione avrebbe una lista di precondizioni che debbono essere vere nello stato del mondo affinché quell'azione possa essere compiuta nel caso del movimento di un certo agente da un certo luogo from come precondizione essenziale quella irrinunciabile abbiamo che l'agente in questione deve essere nello stato iniziale cioè nello stato in cui l'azione viene sopposta viene pianificata deve essere posizionato nel luogo from la hedge list e la gelate list rappresentano il meccanismo con cui l'operatore va a modificare la teoria per aggiunta e per cancellazione che cosa aggiunge l'azione Go agent from to aggiunge il fatto che l'agente dopo che l'azione è stata completata si trova nel luogo to cosa viene rimosso? viene rimosso dal termine dell'azione il fatto che l'agente si trovi nel luogo from e quindi noi adesso queste tre componenti fondamentali precondizioni, add list e delete list insieme al nome dell'operatore li possiamo raccogliere all'interno di un operatore di un predicato che si usa operator o qualcosa del genere operatore OPN tutte queste quattro elementi nome, precondizioni, add list e delete list le possiamo raccogliere in questa maniera alla prologue questo lo possiamo fare anche per altre azioni e nel nostro pianificatore che stiamo prendendo come esempio supponiamo che la scimmia il robot scimmia abbia a disposizione altre tre azioni oltre a quella di spostamento l'azione di spingere un certo oggetto una certa scatola per esempio una scala da un luogo a da un altro l'azione di salire sopra questo oggetto e l'azione di prendere un oggetto vediamo e ciascuna di queste azioni esattamente come vi ho fatto per l'azione di spostarsi deve essere descritta da opportune precondizioni e opportuna agilist e opportuna gire-agilist per esempio l'azione di spingere un certo oggetto da una posizione X a una posizione Y ha come precondizioni essenziali che l'agente l'unico che abbiamo a disposizione quindi la scimmia sia nella posizione X perché altrimenti non potrebbe spingere il blocco cioè l'oggetto B e che anche l'oggetto B sia nella stessa posizione della scimmia sulla stessa mattonella e poi che entrambi sia la scimmia che l'oggetto stiano sul pavimento come delete list succederà che né la scimmia né la scatola l'oggetto che la scimmia spingerà si troveranno più nella mattonella X e siccome l'abbiamo la scimmia spostata l'oggetto nella mattonella Y la edge list sarà sostanzialmente essenzialmente definita da questa coppia di predicati la scimmia sarà nel luogo Y e anche l'oggetto che la scimmia ha spinto sarà nel luogo Y l'azione di salire ha come precondizione che sia la scimmia che la scala su cui salirà stanno nella stessa mattonella ed entrambe stanno sul pavimento la conseguenza sarà che la scimmia è sulla scala B sulla scatola scala B la cancellazione sarà che la scimmia non è più sul pavimento l'azione di afferrare è definita da questa tripla le precondizioni sono che la scimmia sia sulla scala altrimenti non può afferrare ciò che è per aria e la scala e l'oggetto afferrato stiano sulla stessa verticale perché altrimenti non si può afferrare una lampadina che è a tre metri di distanza dalla scala anche se sia in cima alla scala e che appunto la lampadina e le banane in questo caso siano appese al soffitto ciò che viene rimosso è che non sarà più vero che le banane sono appese al soffitto ciò che invece verrà aggiunto è che le banane vengono prese dalla scimmia quindi quello che stiamo per vedere adesso è un semplice cosiddetto pianificatore in avanti in pratica implementiamo il pianificatore con una forma di ricerca nello spazio degli stati in depth first come stiamo per vedere perché ovviamente questo ci consente di poter avere un consumo della memoria lineare e sostanzialmente quello che dovremmo fare è quello di andare a vedere cioè l'algoritmo in generale è questo se nello stato del mondo in cui ci siamo siamo in quel momento il goal è verificato in questo caso la pianificazione termina altrimenti dobbiamo selezionare un operatore c'è un'azione che può essere compiuta in cui cioè le precondizioni sono vere nello stato in cui ci troviamo e applicare l'operatore applicare l'operatore vuol dire applicare le modifiche descritte dalla hedge e dalla delete list a questo punto aggiungiamo l'operatore alla lista degli operatori utilizzati questo se non vogliamo riutilizzare lo stesso operatore per un qualche motivo adesso scriverlo tutto ciò in prolog a questo punto è banale il nostro pianificatore sostanzialmente è fatto di due clausole che sono la seconda e la terza che vedete qui il primo è semplicemente un lanciatore quindi il nostro pianificatore questo pianifica a quattro argomenti che funziona come abbiamo visto anche nella di app first con accumulatore con controllo di cicli visitati è una molto molto semplice vedete vedete sostanzialmente andiamo a vedere come lavora lavora così il pianificatore è dato un certo stato e avendo un certo goal e avendo un certo goal essendo che ha fino a quel momento sintetizzato un piano parziale perché non è ancora arrivato alla conclusione e essendo che dovrà alla fine restituire il piano complessivo che fa innanzitutto in maniera non deterministica va a selezionare un operatore verificandone le precondizioni e prendendo va a selezionare un operatore prendendo le precondizioni le cancellazioni e le aggiunte poi va a vedere se le precondizioni sono verificate ecco questa è un'operazione molto molto importante perché se noi andassimo a considerare il pianificatore come un'operazione di inferenza di inferenza di primo ordine completo quello che noi dovremmo in teoria fare è andare a vedere se le precondizioni dell'operatore sono conseguenza logica della descrizione della teoria che descrive lo stato del mondo corrente questo sarebbe troppo complicato farlo in questo pianificatore che stiamo per vedere che è un pianificatore molto schematico però nella sua schematicità funziona questo pianificatore perché abbiamo una descrizione dello stato del mondo essenziale in cui non esiste una teoria causale del mondo con delle regole complesse ma abbiamo che il mondo è semplicemente scritto da una serie come avete visto nella slide precedente è un insieme di fatti ground quindi senza regole con variabili per cui a questo punto l'operazione di andare a vedere se un fatto è vero o no sostanzialmente è un'operazione di sottinsieme bisogna andare a vedere se una lista di fatti è vera o no è un'operazione di sottinsieme bisogna vedere se tutti i fatti in quella lista sono sottinsiemi della lista dei fatti che rappresentano la teoria del mondo in pratica sostanzialmente quello che andiamo a vedere è un insieme di fatti che costituiscono un sottinsieme della base di Erbrand è un sottinsieme della di un altro sottinsieme della base di Erbrand che è la descrizione dello stato del mondo corrente ma in questa operazione di sottinsieme se le precondizioni hanno delle variabili come vedremo queste variabili verranno comunque istanziate quindi come stiamo per vedere c'è comunque una forma primitiva di matching e quindi di computazione dopodiché in maniera molto 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 restrittiva eliminiamo i cicli semplicemente andando a verificare che l'operatore che abbiamo selezionato non faccia già parte del piano parziale quindi non sia un operatore che abbiamo già selezionato in precedenza dopodiché chiaramente questa è molto restrittiva come condizione perché non ci consentirebbe di fare due volte la sessazione ad esempio se noi dovessimo se il nostro robot avesse un martello e dovesse piantare un chiodo dovrebbe probabilmente dare ripetute martellate quindi ripetere continuamente la sessazione ed è giusto che faccia così fino a quando il chiodo non è completamente inserito nel legno dove deve essere inserito ogni volta però ogni martellata cambia lo stato del mondo perché il chiodo penetra maggiormente all'interno della tavola che deve inchiodare quindi lo stato del mondo cambia ma l'azione è sempre la stessa quella che viene compiuta fino a quando appunto non si riuscita uno stato obiettivo questo modo di controllare che non ci sia una ciclicità in realtà ti impedirebbe di rifare la stessa azione quindi è estremamente restrittivo quindi propongo una modifica di questo pianificatore a modo di esercizio dovrete per forza introdurre un argomento in più a questo pianificatore che passerà quindi da 4 a 5 argomenti per effettuare il controllo dei cicli non già impedendo che venga riproposta una stessa azione ma semplicemente impedendo che venga rivisitato venga riespanso uno stato del mondo che era già stato espanso come abbiamo visto quando abbiamo parlato della ricerca in depth first dico una volta che abbiamo appurato che insomma possiamo scegliere questo operatore andiamo a applicare la lista differenza e quindi sostanzialmente prendiamo tutto ciò che dobbiamo rimuovere il contenuto del delete list e lo rimuoviamo dallo stato questo rimanente quindi sarebbe la descrizione del stato del mondo meno ciò che non è più vero a seguito del compimento dell'azione dopodiché prendiamo questi rimanenti e ci aggiungiamo la add list e a questo punto abbiamo prodotto il nuovo stato cioè il nuovo stato sarebbe ciò che risulta dal compimento dell'azione rappresentata da quell'operatore a quel punto siamo nel nuovo stato e quindi avviamo la ricorsione il goal è il medesimo aggiungiamo al piano parziale l'operazione l'operatore che abbiamo già appena compiuto appena appena supposto di porre in atto e ovviamente passiamo al piano stesso questo va avanti però a ogni passo di ricorsione si va a vedere se lo stato in cui siamo pervenuti è uno stato in cui un certo goal il goal qui può essere un insieme di goal attenzione è un sottinsieme cioè se i goal che abbiamo dato qui che potrebbe essere una lista di fatti ground è un sottinsieme dello stato in questo caso stop abbiamo raggiunto lo stato che cercavamo quindi dobbiamo solo scrivere la soluzione vediamo come possiamo rappresentare gli operatori gli operatori che abbiamo visto prima quindi li rappresentiamo esattamente in maniera consistente con la tabella che abbiamo visto prima e quindi l'avevamo già visto lo rivediamo l'operatore per esempio go vai da un posto a un altro quindi sottinteso qui l'agente perché c'è un solo agente che la scimmia lo possiamo modellare in questa maniera e il presupposto bisogna che la scimmia l'unico agente che abbiamo in nostro mondo sia nella posizione x e sia sul pavimento perché altrimenti non si può spostare verrà rimosso da letta list il fatto che la scimmia è nella posizione x verrà aggiunto il fatto che la scimmia è nella posizione y x ed y perché questa azione si può obbligare da una qualunque mattonella a una qualunque altra mattonella ecco prendetevi il tempo per vedere come abbiamo tradotto in prolog gli operatori corrispondenti alle altre tre azioni quindi quello che adesso andiamo a vedere è un pianificatore quello che abbiamo visto anzi è un pianificatore quindi che lavora in depth first perché sostanzialmente abbiamo riportato lo schema della chiamata ricorsiva della depth first le azioni vengono selezionate mediante la chiamata qui l'operatore e la verifica della varietà delle precondizioni viene fatta mediante un test di sottinsieme di precondizioni ecco quello che ho riportato qui è è una considerazione circa circa questa questa caratteristica questo pianificatore questo pianificatore rappresenta gli stati del mondo come lisse di fatti e non asserisce semplicemente i fatti nel database cosa che ci sarebbe stato utile se avessimo voluto verificare le precondizioni come fatti che sono conseguenza logica dei fatti presenti nel database cioè avremmo potuto utilizzare il prolog stesso come theory improver per vedere se le precondizioni sono vere semplicemente lanciando come goal la precondizione per vedere se questa precondizione una per una sono vere nel mondo ma questo modo di lavorare cioè utilizzare il database stesso del prolog per rappresentare la teoria corrente ci avrebbe complicato la gestione del pianificatore perché avrebbe reso impossibile implementare così facilmente come stiamo per vedere la ricerca in depth first perché la ricerca in depth first ovviamente comporta il backtracking ma noi sappiamo che l'assert di un fatto nel database non può essere ritratato dal backtracking e quindi non avremmo potuto ritrattare l'asserzione di un fatto nel database se avessimo voluto utilizzare il database per rappresentare le teorie che descrivono il mondo ecco perché le teorie che descrivono i vari stati del mondo sono rappresentate all'interno del pianificatore come list di fatti quindi in pratica quello che abbiamo è questo funzionamento partiamo dallo stato iniziale descritto da quella sequenza di fatti che fanno parte è la lista che descrive lo stato del mondo anzi prima di vederlo io lo lancio questo è il programma che abbiamo appena visto che è in grado mi sono creato che sostanzialmente è di verificare se c'è un piano che è in grado di raggiungere il goal stato banana prese partendo da uno stato del mondo rappresentato da questa lista di fatti e cioè che la scimmia è sul pavimento che anche la scatola è sul pavimento che la scimmia è sulla mattonella A che la scatola è sulla mattonella B e che le banane sono sulla verticale della mattonella C e inoltre le banane sono sul soffitto l'obiettivo è quello di prendere le banane bisogna vedere se c'è un piano che ci consente di far questo allora io a questo punto lancio semplicemente test e chiedo di restituire il piano ecco qui il piano d'azione prodotto al pianificatore è questo qui si dice alla gente alla scimmia di muoversi dalla mattonella A alla mattonella B nella mattonella B troverà la scala e quindi deve spingere la scala spostarla fino alla mattonella C a quel punto solo a quel punto può salire sulla scala la scimmia e a quel punto la scimmia può prendere le banane a questo punto siamo in uno stato del mondo in cui le banane sono prese dalla scimmia quindi fermiamo il pianificatore come ha fatto a lavorare questo pianificatore lo stavamo per vedere è partito come dicevo dallo selezionato l'operatore go x y dove la prima variabile la x è stata istanziata ad A perché nelle precondizioni dell'operatore adesso facciamo un pochino di salti c'era che la scimmia stava sul pavimento e la scimmia doveva stare in un certo luogo x che è quello allora nella lista che era la scimmia sul pavimento si quindi questo è verificato poi la scimmia è in A e quindi la prima variabile dell'operazione go viene unificata con A la seconda rimane non unificata quindi viene aggiunto il fatto che la scimmia sta in un certo luogo non precisato x dopo che l'azione sposta da A a un certo luogo viene compiuto la scimmia si troverà in quel luogo anche se non sappiamo ancora quale e invece non sarà più vero che la scimmia è in A perché questo non sarà più vero come vedete questa variabile x ancora rappresenta il luogo dove si trova la scimmia non lo sappiamo perché non sappiamo ancora il pianificatore ha applicato questo operatore ma non sa esattamente dove si troverà la scimmia dopo però nel secondo passo della ricorsione viene selezionato l'operazione spingere l'operazione spingere ha come predicati come precondizione andiamo a vedere che sia la scimmia che l'oggetto che la scimmia va a spingere devono stare sul pavimento e poi devono stare anche nella stessa mattonella allora che cosa succede che quando si va a verificare le prezioni si trova che la scimmia è sul pavimento e che il box è sul pavimento e quindi questo box potrebbe essere un candidato oggetto da spingere però bisogna vedere dove si trova questo oggetto box si trova nello stato b a questo punto c'è la scimmia at x qui ecco sto sbagliando questa x a questo punto viene unificata con b per quale motivo perché si va a verificare le precondizioni dell'azione push l'azione push scimmia box fa sì che la scimmia si deve trovare per forza in b perché altrimenti non potrebbe spingere la scala che si trova in b e quindi a questo punto nel verificare le precondizioni dell'azione push box da b a qualcosa abbiamo istanziato a b il luogo dove si era mossa la scimmia nell'azione precedente quindi è l'istanziazione delle precondizioni della seconda azione che ha istanziato completamente in questo caso l'azione precedente quindi adesso sappiamo che la scimmia si è mossa da a a b e a questo punto pianifica di spostare la scala dal luogo b dove si trova a un certo luogo che non sappiamo quale questa presunzione di effettuare quest'azione fa sì che vengono aggiunte nella descrizione del stato del mondo che la scimmia è in y e anche il box sarà in y e verranno rimosse il fatto che entrambi stanno nella casella b a questo punto viene viene selezionata l'azione di salire climb on climb on ha come precondizione andiamo a rivedere e anche l'oggetto su casa sta sul pavimento entrambi poi devono stare nella stessa nella stessa verticale sulla stessa mattonella cioè ebbene il primo oggetto che avveriamo che verifica queste condizioni è la scimmia stessa per cui c'è questa strana soluzione che il pianificatore fa se fate il tracer mi accorgete che fa questo e c'è quello di pianificare l'azione di salire su se stessa questa azione sconsiderata è dovuta al fatto perché non abbiamo niente che impedisca nessuna specifica che impedisca la scimmia di salire su se stessa e quindi viene presupposta e quindi viene cancellato il fatto che la scimmia sia sul pavimento però a questo punto andiamo a finire in un certo stato del mondo che qui non è completamente specificato in cui la successiva ultima azione che abbiamo a disposizione cioè quella di grab non può essere posta in essere e quindi c'è un backtracking e si va e si torna nella nell'azione precedente la quale non viene risoddisfatta no perché in realtà si può pianificare di nuovo un climb on si può pianificare la stessa mossa perché climb on può avere un'altra possibile distanziazione per quanto riguarda la sua variabile che è box in quanto anche il nelle precondizioni c'era che ovviamente la scimmia deve stare sul pavimento e poi ci deve stare un altro oggetto che sta sul pavimento e come dicevo prima la scimmia e quell'oggetto devono stare nella stessa mattonella allora quell'oggetto scelto è il box e questo comunque non contribuisce a istanziare la variabile y dell'azione precedente che è rimasta non istanziata però viene selezionato climb on box climb on box modifica lo stato del mondo perché a questo punto la scimmia non starà più sul pavimento ma starà sul box il box rimane sul pavimento dove stava e e non sappiamo dove sta perché la scimmia l'ha spostato da B a una una locazione che ancora non sappiamo qual è sappiamo che però la sia la scimmia che la scala il box stanno nella stessa mattonella inoltre sappiamo dall'inizio questo non è mai stato modificato che sia le banane che le banane stanno sulla verticale c e che le banane stanno attaccate al soffitto ora a questo punto in questo stato qui dove ancora questa variabile y non è stata distanziata l'ultima azione che possiamo pianificare è grab grab a come precondizioni è vero il box stia su una certa mattonella x questa l'oggetto che la scimmia va a prendere stia sulla stessa mattonella sulla stessa verticale e l'oggetto sia pendente allora quindi per poter a questo punto è tutto verificato in questo stato del mondo però deve essere distanziato il fatto che il box e le banane stiano sulla stessa verticale per poter fare il grab di banane quindi a questo punto y diventa c y diventa c e quindi viene istanziata la y che è rimasta non istanziata da due azioni precedenti e vengono applicate la hide list e la delete list di questa azione grab banane e quindi a questo punto abbiamo una descrizione del mondo che è completamente istanziata in particolare in questa descrizione del mondo è verificato il predicato ground status banane prese e quindi a questo punto essendo verificato il goal il pianificatore termina il suo lavoro ecco quindi prendete tempo per verificare sullo swipe o log il funzionamento di di questo pianificatore e direi che a questo punto la la questa unità didattica può terminare nella prossima unità didattica vedremo sarà dedicata alla discussione del concetto di pianificazione all'indietro quello che abbiamo appena visto è stato un pianificatore in avanti nella prossima discuteremo le ragioni a vantaggio della pianificazione all'indietro e poi presenteremo una implementazione in prologue di un pianificatore che vada non già dallo stato iniziale allo stato finale ma vada bensì dallo stato finale in cui un certo gol è verificato all'indietro come un gambero fino a matchare lo stato iniziale iniziale Grazie.